Grazie a tutti ragazzi e complimenti per la manifestazione che non credo sia solo parte della... ma dobbiamo ringraziare tutti perché se non c'era il contributo di tutti siete stati voi a farlo e pochi minuti fa parlavo con l'assessore Morabito che al mio fianco gli ha detto avete sbagliato l'ora perché l'ora per fare questa manifestazione è alle due di notte al centro del paese così quantomeno teniamo in armonia un po' di gente che protesta sempre per i decibel e ci dice eh tutti i decibel estivi dovete ridurre gli orari fino a l'una massimo perché poi a letto dobbiamo dormire no invece l'anno prossimo lo organizziamo alle due di notte fino alle sei di mattina così ci vediamo. Perché sto questo? Perché queste manifestazioni queste manifestazioni così importanti che fate voi che organizzate voi siete fuori pulsante no? Di quelle della musica poi alla fine perché tutto ci va sulla musica oltre diciamo all'aspetto rivoluzionario no? Che date alle macchine che date all'amplificazione e a quant'altro però il credo che il frutto vero di questo movimento dove vi riunite poi alla fine la musica no? Lo stare assieme e sono delle delle belle esperienze che ogni comunità dovrebbe vivere e poi puntare soprattutto sui giovani vedo qualcuno meno giovane però è meno giovane perché probabilmente ci sono caldi i capelli non c'è altro è rimasto il giovane è rimasto il giovane dentro e queste sono le forze propulsive dei paesi io vi ringrazio ancora. Scusate la cosa che avevo detto poco fa non è solo le due di notte ci hanno pure proibito di giorno fare queste cose. Ma per mandare papà sono dettagli? Sono dettagli di qualcuno che magari soffre di particolari patologie dobbiamo anche... dobbiamo anche... vuol dire che per l'anno prossimo se mi individuate i soggetti casomai facciamo un TSO li ricoveriamo per qualche ora e poi li liberiamo però sono manifestazioni quelle belle che devono restare e all'appuntamento sarà sicuramente per l'anno prossimo la location va migliorata questo lo dico da amministratore è il primo evento dove io partecipo e la location va sicuramente migliorata e vanno probabilmente io non c'ero prima ma presumo il numero era più che nutrito di partecipanti vuol dire che cerchiamo di allargare anche ai confini regionali si può credo di sì si può anche allargare i confini regionali perché credo che ci sia un movimento over e proprio di amanti di questo settore quindi vi ringrazio grazie per la vivacità che avete dato al paese il paese è aperto l'amministrazione è con voi buon proseguimento e buon divertimento addirittura i ragazzi hanno già individuato che la tua amministrazione la nostra amministrazione del paese è così squagliata che il tentatore non ha la targa pure quindi premiate anche allora se volete da questa parte un attimo giratevi tutti guardate aspetta che ci sia allora ok allora ditemi quando siete pronto ok guardate da questa parte aspetta a posto disposti follare io 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 Grazie a tutti